Venerdì 20 aprile alle ore 11.40, a Conversano, grazie al grande e forte senso civico di un automobilista, un disabile, si è trovato a fare i conti, con l'unico scivolo a disposizione sul marciapiede, bloccato da una macchina. L'uomo, avendo anche problemi di parola, si è lamentato con mugiti, che volevano chiaramente essere forme di bestemmie nei confronti dell'automobilista motello. Ricordiamo che l'accessibilità è la base materiale che consente alle persone con disabilità di fruire, nel rispetto delle varie opportunità, dei diritti fondamentali che aprono loro le porte dell'inclusione sociale. Grazie.